Samuele Zona, sono già un mesetto che state lavorando, ti chiedo come stanno andando le cose, che impatto hai avuto con il mister e con i nuovi compagni? No, no, l'impatto è stato molto importante, stiamo andando tutti alla grande secondo me e adesso fra meno di due settimane inizia il campionato e siamo pronti. Che effetto ti ha fatto essere uno dei due confermati rispetto all'anno scorso? Siete rimasti tu e Lazzarini, Castaldo è aggregato dalla Juniore, sei un bel attestato di fiducia nei tuoi confronti. Sì, sì, diciamo che sono contento, è stata per me una bella soddisfazione quando più o meno una settimana, dieci giorni dopo l'ultima partita con il Gavorrano, mi ha chiamato Nello insieme al direttore che volevano che rimanessi io subito in telefonata, gli dissi che sarei stato un giocatore dell'Arezzo anche per questa stagione, non ci ho pensato un secondo. Bella concorrenza comunque per i due posti da esterni in difesa, no? 2-2002, 2-2004, Poggesi-Lorenzini, zona per i Colini, ci sarà da sudarla questa maglia, Samuel? Sì, quest'anno sì, ma come in tutti gli anni passati penso sia un bene secondo me avere tutti i ragazzi bravi, magari anche nel proprio ruolo, nel ruolo di altri, perché questo fa falsare l'asticella e fa essere una squadra molto più competitiva, quindi sono contento che ci stanno queste individualità bravi con cui uno si deve andare a giocare il posto per poi la domenica scendere in campo. Sensazioni dal campo, l'amichevole di Prato ha messo in evidenza dei grandi progressi della squadra contro un avversario di pari categoria, tra l'altro, che impressioni hai avuto? No, ho avuto ottime impressioni, abbiamo fatto amichevole contro comunque squadra di C come Santonato e Ponte d'Era e il risultato non ci ha premiato, ma sono state comunque secondo me molto positive. Poi ci siamo confrontati con una squadra come il Prato e comunque fa il nostro stesso campionato e è andata penso molto bene, quindi siamo contenti insomma della strada che stiamo facendo. Difesa alta, squadra che deve essere propositiva, che deve aggredire, questo vuole indiani, anche gli esterni bassi devono andare, creare sempre la sua priorità numerica con gli esterni d'attacco, come ti trovi con questa interpretazione del ruolo? No, 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 mi trovo molto bene, il mister vuole insomma tutti uno contro uno sulla fascia, quindi dobbiamo essere noi esterni, diciamo, bravi e poi soprattutto in fase di spinta per dare una mano agli nostri esterni o attaccanti, quindi penso che col gioco del mister quest'anno noi esterni, ma anche negli altri ruoli ci potremo divertire tanto. Cosa intravedi in questa squadra di quest'anno di diverso, di migliore magari rispetto a quella dell'anno scorso che doveva vincere il campionato e poi non ce l'ha fatta e è arrivata solo terza e ha perso i play-off con il Gavorrano? Ma non vedo, cioè vedo una squadra molto forte come lo era secondo me quella dello scorso anno, perché comunque l'anno scorso c'erano in dualità secondo me importanti come lo ci sono quest'anno, poi l'anno scorso qualcosa non ha girato, in un'annata comunque penso che possa capitare, però quest'anno non ce lo possiamo permettere, quindi l'obiettivo è chiaro e cercheremo di portare a casa questo campionato per riportare l'Arezzo dove merita. Ti chiedo un'ultima cosa, che effetto ti fa vedere che la tua ex squadra Rieti ha avuto un destino brutto, dovrà ripartire dal campionato di promozione se non sbaglio, insomma è stata una fine in attesa anche? Eh non è stata piacere la notizia, comunque io il mio primo anno, quello diciamo che mi ha lanciato, l'ho passato lì e sono stato veramente bene, penso che Rieti è una città veramente bella, con una piazza bella, uno stadio bello, dei grandi tifosi, quindi è un bel dispiacere, però penso che tornerà presto dove merita. Bocca al lupo. Grazie. Grazie.